A settembre su Fine Living Fantastico! Ciao! Che ne pensi? Mi sento veramente bene! Ci siamo! Favoloso! Diventerà strepitosa! È incredibile! Nuovi sapori! È speziato! Meraviglioso! I dalle cassi baffi! Non resisto! È buonissimo! Nuove idee! Vado a caccia di tesori! Mi piace avere l'opportunità di fare cose diverse! Non è fantastico! Bene! Nuove mete! Andiamo a dare un'occhiata! Alla vostra felicità e ai vostri affari! Nuovi sogni! Una casa unica! Facciamo subito l'offerta! Qualcosa da aggiungere? È stupendo, davvero! Ok, ecco la situazione! A settembre una nuova stagione con Prime Visioni Mondiali! Nuovi episodi! Prime Visioni Assolute! A settembre su Fine Living!